L'onorevole Nullazzo rilascerà una dichiarazione di importanza nazionale per tutta la nazione. Se l'onorevole non la conoscevamo. Se non fa gli sciacqui poi l'onorevole Nullazzo. Preparando la gola per la dichiarazione. Va bene, è una cosa importante. Ringraziamo i due portaborse. Addirittura la bottiglia. Una è portabottiglia e l'altra è portaborse. Certo. Portamatite chi dei due, scusate? Ridete, ridete. No, va bene, per dire. Adesso sentirete, ridete. Sì, sì. Ce n'è per tutti. Siamo tutte orecchie. Onorevole Civica. Permettetemi di dire che il Ministro dell'Interno ha mostrato di inseguire interessi personali e di partito. Non posso permettere che questo passaggio istituzionale così rilevante possa consumarsi a mezzo di conciliaboli riservati, comunicazioni affidate ai social, Dichiarazioni rilasciate per strada o nelle piazze, senza un pieno ufficiale contraddittorio. La decisione della Lega di interrompere questa esperienza di governo al fine di tornare urgentemente alle urne elettorali la reputo oggettivamente grave. Far votare i cittadini è l'essenza della democrazia. Sollecitarli a votare ogni anno il responsabile. Prego, applausi. Applausi. Anche la classe. Ebbè, è entrato. Non è entrato. Non è entrato in quel passo. Non si accoppi con le giuranti. Oh, che bellissimo. Non si appoggi. Non c'è l'astegista, onorevole. Non c'è l'astegista, onorevole. Non c'è l'astegista, onorevole.